Ma quindi Padovano passa al centro-destra? Padovano l'ha detto ieri in Consiglio Comunale, Padovano sicuramente con questo centro-sinistra che c'è stato fino all'altro ieri non ci vuole più niente avere a che fare perché non solo ha illuso i cittadini nella città di Pescara ma ha preso in giro anche il lavoro politico dei consiglieri comunali che hanno sostenuto il centro-sinistra per quattro anni e mezzo. Sarò il sindaco del mare, si legge sui manifesti per Pescara di Riccardo Padovano, primo in ordine di tempo a presentare la sua candidatura ma oggi il colpo di scena, il passaggio dello stesso in pratica al centro-destra con la sua lista Pescara Domani che incassa anche l'appoggio dell'Udc e di Massimiliano Pignoli il quale oggi ha annunciato a sua volta l'ingresso nell'unione di centro. Riccardo Padovano è un fiume in piena contro la sua ex casa, il centro-sinistra. Abbiamo fatto un ragionamento politico con il consigliere Massimo Pignoli che ritengo che sia uno dei consiglieri più apprezzati nella città di Pescara e più rappresentativo a livello territoriale e comunale e abbiamo detto di presentare oggi questo nostro progetto. Nel progetto di Pignoli c'è il suo ingresso, e lo dirà lui, in un partito a carattere nazionale a cui sosterrà questa lista di Pescara Domani per un progetto da qui a prima della presentazione delle liste nella città di Pescara. Sì, abbiamo individuato un percorso. È chiaro che il consigliere Padovano Ove dovesse individuare un candidato sindaco che dovesse interpretare le idee e convergere ovviamente sul centro-destra e raccogliere più consensi. Lui farà sicuramente un passo indietro e noi convergeremo con l'Udc, con una lista forte, importante, intraprendente, verso il centro-destra. Secondo rumor, se il candidato ideale per Pignoli e Padovano potrebbe essere Carlo Masci, ma si sa in politica nulla è scontato e questa primavera sarà molto calda sul fronte della campagna elettorale a Pescara.